Nick Di Michele è tornato a Termoli anche per motivi professionali che non stiamo però qui a dettagliare con la conferenza stampa relativa al POS, un ritorno anche all'attività politica in presenza sul nostro territorio e quindi abbiamo ritenuto opportuno intervistarlo all'Atere per chiedergli quali sono le sue opinioni rispetto al corso evolutivo che sta vivendo il Movimento 5 Stelle, visto che comunque lo consideriamo il principale riferimento locale ventastellato. Beh, quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno il Movimento 5 Stelle ha vissuto momenti di travaglio anche di tipo veramente pesante, duro, è stato quasi tutto esasperato perché le scelte fatte dal 2018 in poi, scelte di andare con la Lega, poi col PD e Renzi insomma hanno un po' creato non solo malumori verso gli eletti, quindi portavoce a livello locale, regionale ma anche a livello nazionale, ma soprattutto tra la gente, la gente che ricordo nel 2018 ci ha votato per il 33% a livello proprio nazionale. E quindi tutte queste cose hanno un po' allontanato i cittadini e hanno dato la stura per cercare di correggere il tiro e di cambiare. E quindi è venuta fuori la figura di Giuseppe Conte, ex Presidente del Consiglio, che ora è, diciamo, vecchio segretario di partito, il Presidente del Movimento 5 Stelle che in qualche modo deve riuscire a tirar fuori da questa melma il Movimento 5 Stelle perché è inutile nasconderlo, ci sono state delle scelte che non sono state condivise, ci sono state delle scelte che i cittadini non hanno capito, non stiamo qui ad elencarle perché sono molte, ma è chiaro che dobbiamo anche affermare, ma senza smentita, che gli italiani votano molto di pancia. E io vi posso fare gli esempi di Renzi, al 41% l'Europa è e dopo 4 anni non esiste più, posso fare il Movimento 5 Stelle al 33% nel 2018 e adesso siamo al 15%, posso fare l'esempio di Salvini al 38% nel 2019, dopo 2 anni sta ad un scarso 18%, ma tanti tanti altri esempi, per cui non bisognerebbe preoccuparsi più di tanto perché gli italiani sono così, sono un po' volubili e votano anche di pancia. Hanno ragione su certe cose, certo che oggi bisogna dare una scossa a tutto quanto e bisogna capire dove andare. Da soli non si può andare più da nessuna parte perché l'abbiamo capito, da dove ci siamo presentati da soli abbiamo avuto pochi risultati e quindi c'è bisogno di andare in coalizione, la coalizione naturale è quella del centro-sinistra e quindi niente, Conte ha questo ingrato compito di segnare la via. Perché coalizione naturale? Come è nata questa scelta? È frutto dell'eredità di un Conte Bis che per quanto vi riguarda ha rappresentato il momento di massima rappresentanza istituzionale? No, ma assolutamente no, sono proprio i valori, sono la carta di Firenze che ce l'ho lì dietro che esprime determinate situazioni. Noi non siamo assolutamente contro l'immigrazione, vogliamo che sia regolamentata, ma non siamo contro. Ci sono certi valori di natura proprio etica che ci allontanano dalla destra, quella destra che ormai in Italia non si può neanche chiamare destra, è un bailam di personaggi che dicono di essere di destra ma poi non sanno neanche da che parte stanno. Non è la questione di Conte Bis o Conte del primo governo, è proprio il DNA del movimento che l'acqua pubblica piuttosto che dare la possibilità a tutti di avere informazioni gratuite, è proprio nel DNA del movimento, non è scritto ma è così. Però per 5 anni, dal 2013 fino al 2018, il PD era il vostro principale bersaglio? Era il nostro principale bersaglio perché era un PD di governo, era un PD che faceva delle scelte completamente contro i cittadini ed è normale che laddove i governanti non fanno quello che dovrebbero fare, non prendono decisioni a favore di tutti, a favore dei 56 milioni di italiani e oltre, è chiaro che il movimento sta contro. Non siete stati teneri neanche qui a Termoli e nemmeno per quanto riguarda l'opposizione in regione, però questo vuol dire che il tempo è galantuomo? Ma se io l'ho detto sempre, il tempo è galantuomo, al di là dell'opposizione che ho fatto io in questi cinque anni contro il governo dell'amministrazione Sbrocca, era dovuto ai cittadini, era quello che gli avevo promesso ed è quello che ho fatto. I risultati ci sono stati in parte, non voglio assolutamente dire nulla su questo perché poi la democrazia impone delle scelte e i cittadini hanno scelto a Termoli di andare a destra. Va benissimo, lo accetto, ma è attettanto vero che fare opposizione contro tutto quello che è governo per cercare di far capire e ci sono altre scelte da fare, ad esempio una su tutte è il tunnel. Se non ci fosse stata l'opposizione nostra e dei cittadini, probabilmente adesso avremmo un buco lì pieno d'acqua e quella opposizione è servita. Per quanto riguarda invece gli scenari futuri, di strettissima attualità la notizia di una possibile adesione al Partito Socialista Europeo, rivelata da Luigi Di Maio e confermata dallo stesso conto? Sì, è stata confermata, ho letto questa notizia, ho approfondito in questi giorni, ci sono dei malumori anche su questa cosa, ci sono degli eletti a livello nazionale che non è che amano proprio questa situazione che sarà a divenire in tempi molto brevi, però è attettanto chiaro, noi in questo momento in Europa siamo nei gruppi non rappresentativi, nel senso che stiamo fuori di ogni gruppo, non contiamo niente, prendiamo decisioni ad ora e questo non ci aiuta, perché laddove c'è bisogno di prendere delle decisioni per l'Italia e non hai un gruppo di riferimento, non hai un gruppo che ti aiuta, non hai un gruppo a cui chiedere aiuto, ti ritrovi da solo e quindi i nostri parlamentari, che non sono tanti, ma non sono neanche pochi, non hanno nulla da dire. A questo punto, visto e considerato che in Italia si stanno facendo delle scelte, anche a livello europeo bisogna farle. Siamo d'accordo, non siamo d'accordo, non lo so, vedremo, anche perché le altre volte, nella passata legislatura a livello europeo siamo stati con Farage, l'inglese che poi è andato via dall'Europa, insomma le scelte non è che sono state proprio idilliache, per cui preferisco questa a questo punto. Nell'estate del 2019, quando si è conclamata la crisi dell'alleanza con la Lega, Romano Prodi fu il primo a parlare di maggioranza ursola, quella che poi di fatto si è concretizzata con il secondo governo Conte, quindi fu profeta. Assolutamente sì, Prodi non è molto ben visto degli italiani, ma a livello politico lo definiscono stratega perché vede molto lontano, capisce quali sono gli umori delle persone, capisce l'umore degli italiani, ma soprattutto capisce quello che è l'umore dell'Europa. Noi possiamo dire quello che vogliamo, purtroppo il sistema politico ci impone di fare alleanze. A Termoli nel 2019 ci siamo presentati con una lista unica, avessimo avuto la possibilità di una seconda lista, probabilmente io starei qui a parlare da sindaco e non è avvenuto. Quindi essendo definito stratega lo vedrebbe anche bene a Quirinale, nonostante il diretto interessato ha smentito un po' di più l'involgimento. Non si sceglie il male minore, ma dovendo scegliere tra Berlusconi e lui preferirei mille volte Prodi, ma è Berlusconi al Quirinale. La nuova alleanza di centro-sinistra allargata al Movimento 5 Stelle punterà chiaramente non solo agli ambiti nazionali, ma anche a quelli regionali. Oggi i gruppi consigliari del PD e del Movimento 5 Stelle in opposizione piacciono più o meno a braccetto, nel senso che sposano quasi tutte le cause contro il governo Toma, mentre la delegazione parlamentare ormai è rappresentata soltanto da Antonio Federico, visse le scelte diverse di altri tre eletti. Io stenderei un velo pietoso su questa ultima tua affermazione. Noi abbiamo avuto quattro parlamentari eletti, potremmo avere anche il quinto del Movimento 5 Stelle per un errore strategico, non l'abbiamo avuto, ma nello stretto giro di due anni li abbiamo persi tutti, chi per un motivo o per un altro. Ciò significa che non c'è maturità politica e quindi faccio un'autocritica. Non c'è stata una strategia, ma soprattutto ci siamo resi conto che viaggiare ognuno per i fatti suoi non porta a niente. Fare opposizione dentro lo stesso partito porta proprio a questo, da 4 a 1. Potevamo davvero distruggere ogni cosa che ci si presentava davanti costruendo per i molisani, ma non solo per i molisani. Adesso ci ritroviamo, nonostante tutto, con quattro parlamentari nostri, che ora non sono più, ma sono comunque molisani. Quindi comunque devono fare gli interessi dei molisani a piangere sulla sanità, a piangere sui servizi, a piangere su una regione che non esiste più. E mi dispiace, perché erano del Movimento 5 Stelle, sono degli amici che dovrebbero continuare a lavorare in questi ultimi due anni per il benessere dei cittadini. Al di là se sono del Movimento, se non lo sono. E se non lo fanno, io ho una critica profondissima verso di loro. Sulla regione invece? Sulla regione io ho in mente un'altra strategia, nel senso che si stanno facendo dei giochetti non per costruire, ma per distruggere determinati soggetti. Io credo che i pupari hanno già scelto il presidente della regione futuro ed è quello che succederà. Poi quando si chiuderà questa diretta ti dirò il nome, perché non vorrei bruciarlo, ma io già so chi sarà il prossimo presidente della regione. Non è una diretta, è un'intervista visita. Eh vabbè. Per quanto riguarda le dinamiche interne al Movimento 5 Stelle e nelle galassie afferenti, molto spazio viene dato ad un possibile nuovo soggetto politico dato alla vita da Alessandro Di Battisti. Io stimo molto Alessandro, siamo amici, ogni tanto ci sentiamo, lui ha molto da fare, però ogni tanto ci scriviamo, lui mi risponde, apriamo dei dibattiti. Ma posso dire che alla luce di quello che è successo non avrà molto spazio in politica, semplicemente perché l'Italia è un paese moderato, è un paese a cui non piacciono gli eccessi, è un paese a cui non piace la politica urlata, è un paese a cui non piace vivere costantemente in apprensione, per cui al di là dei suoi sforzi, al di là della sua bravura, al di là del fatto che politicamente potrebbe essere bravissimo, ma credo che non ci sarà, non ci sarà assolutamente una parte di italiani grossa, consistente che lo seguirà. Perché? Perché gli italiani scelgono e hanno sempre scelto la parte moderata della politica, possiamo allencarne tanta. Non sceglievano oltremodo il partito comunista ma quello socialista, non sceglievano la destra ma sceglievano la democrazia cristiana, negli ultimi tempi hanno scelto Forza Italia che era un partito né di destra né di sinistra, era lì al centro ed era moderato. Queste sono le scelte degli italiani, per cui mettersi o a destra o a sinistra, nell'estrema destra o nell'estrema sinistra non porta assolutamente a nulla di buono. Questo vuol dire che il Movimento 5 Stelle non potrà tornare su vette di consenso come quelle delle politiche 2018? Io non credo che possa arrivare al 33% neanche con l'aiuto costante di Conte che è una grande brava persona ma anche politicamente preparato politicamente. Però politicamente i valori non sono quelli. Io credo che nel 2023 il Movimento 5 Stelle a guida Conte potrebbe tranquillamente superare il 20%, tranquillamente. Siamo di fronte ad una fase di maturità di attivisti che da 10 anni hanno portato il verbo di Grillo e Casaleggio nelle piazze, ti ricordiamo lo stesso Grillo, Di Maio, Di Battista nelle piazze, Piazza Monumento, Piazza Duomo. Sì, sì, era una fase storica nella quale la nazione credeva inconsciamente perché non c'era mai stata fino a quel momento una situazione del genere, non c'era mai stato un comico che in qualche modo aiutato dai tanti cittadini era arrivato a quei consensi, a quelle piazze. Però poi devi concretizzare. Nel momento in cui ti ritrovi di fronte a scelte fatte in opposizione, non concretizzate, quando stai al governo la gente ti botta le spalle. parliamo ad esempio di Taranto, parliamo della TAV, che all'opposizione puoi dire quello che vuoi, o parliamo del gasdotto che attraversa la Puglia, o parliamo di altre scelte che devono essere fatte e non sono state fatte, nazionalizzazione dell'autostrada e siamo ancora a questo livello. La gente non è che c'ha l'anello al naso come dicevamo ieri, le cose le capisce, fa finta di non sentire, fa finta di non leggere, fa finta di non ascoltare, ma poi in fondo in fondo tutti, la maggior parte degli italiani, le loro scelte le sanno fare e nel silenzio dell'urna sanno cosa scegliere. Se non votare di pancia sanno cosa scegliere. Questo perché c'è l'Europa che spinge? Questo perché l'Europa ci ha messo tra l'incudine e il martello e determinate scelte non le possiamo fare più. Se adesso noi abbiamo il gas metano per autotrazione a 2 euro, significa che qui il gas metano non arriva, significa che i gasdotti che ci sono non funzionano, funzionano poco. Allora cosa dobbiamo fare? Vogliamo tenere il gas a 2 euro? Vogliamo uccidere gli italiani con gli stipendi che non arrivano e che non hanno, ulteriormente facendogli pagare nafta, diesel, benzina e metano con questi prezzi? Questo è. Noi non abbiamo le produzioni nostre, quindi in Venezuela leggevo ieri che un litro di benzina sta a 0,01 centesimo, praticamente te la danno gratis, noi a questo non arriveremo mai, perché abbiamo 73 centesimi di accise, quindi anche se ce la dessero gratis, noi comunque un euro la dobbiamo pagare, perché tra accise e IVA arriviamo a un euro. Questa è l'Italia, non abbiamo la potenza delle altre nazioni a livello di materie prime e quindi ci devono soddisfare gli altri. Come? Ce lo portano con il secchio, il metano o la benzina o la nafta? Questa è la situazione. L'Europa ci chiede e noi per stare in Europa, altrimenti dobbiamo portargli le spalle come ha fatto l'Inghilterra e vediamo cosa succede. Ma noi non siamo l'Inghilterra, non siamo la Gran Bretagna, purtroppo. Un'intervista che a nostro avviso rivela un po' di amarezza e disaffezione rispetto ad una lunga militanza tra obiettivi proclamati, raggiunti e ancora agognati. Ma non è né amarezza né disaffezione, è constatazione del fatto che dopo dieci anni, dal 2010, 2011, 2010, 2011 al 2021 ci si rende conto che a volte i sogni non diventano incubi ma ti riportano alla realtà. E le realtà spesso sono lontane da quelle situazioni che tu vorresti vivere, perché ognuno di noi ha un paradiso nella propria mente, ognuno di noi ha un posto idilliaco su cui vivere, ognuno di noi ha delle situazioni rosa, delle situazioni che non hanno colori forti, non c'è il nero, non c'è il marrone, non ci sono... eppure non è così, la realtà è un'altra. Allora, quando tu ti sconti contro la realtà, capisci che o evolvi in senso positivo o negativo, altrimenti, restando al passo dei vecchi tempi, diventi vecchio e vivi di... non voglio fare esempi di partiti che sono ancora ancorati al 1970, che non vanno né avanti né dietro e vivono dei loro pezzi, pensieri, ma sanno di non avere nessuno da convincere, perché nessuno si vuole più convincere. Allora, cosa facciamo? Non siamo camaleontici, ci rendiamo solamente conto che la realtà è un'altra e quindi bisogna cambiare. Solo gli stupidi non cambiano. Il vincolo del doppio mandato non è più un tabù per il Movimento 5 Stelle, lo dimostra la ricandidatura di Virginia Raggi. A Roma, Nicli Michele, dopo due consigliature all'opposizione, che farà la grande? Ma, a 53 anni io, in questo momento, continuo a fare il consigliere comunale perché amo questa città e non voglio portare avanti il mandato che mi è stato dato dai cittadini. poiché mi rendo conto che non dipende da noi, quando parliamo di politica, quando parliamo di scelte politiche, non dipende solo da noi, da quello che vogliamo fare noi, ma molto dipende da chi ti sta intorno e dalle proposte che ti vengono fatte. Siccome siamo circondati da persone che, mi dispiace dirlo, spesso vogliono conquistare scranni importanti anche per questioni economiche, e tutto quello che è successo in questi anni, insomma, tutto quello che abbiamo detto prima, mi porta a pensare anche che ci sarà una lotta fratricida e io in queste lotte fratricide non mi ci metto, semplicemente perché non voglio perdere la dignità. Nella conferenza stampa sulla sanità e l'esito del Consiglio Comunale del 4 novembre hai usato parole durissime dicendo che il Basso Molise è sostanzialmente morto. Sì, ma continuo a ripeterlo, è morto perché ai cittadini non puoi togliere la dignità, non puoi togliere i diritti fondamentali, non puoi togliere il pane e il pane per me è la salute, perché una persona che sta bene è capace di affrontare qualsiasi avversità, qualsiasi problema. Quando tu gli togli queste sicurezze, quando tu togli la possibilità dei cittadini di potersi curare, significa, e lo ripeto per l'ennesima volta, che lo stai portando alla morte. Una morte, ma anche a volte anche una morte quella vera, quella che ti stende definitivamente, perché uno che viene colto da infarto e deve arrivare a basso, deve arrivare a campo basso, non ci arriva. E noi, 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 non abbiamo fatto niente di male per meritarci tutto questo. I cittadini termolesi, i cittadini basso molisani, che sono già in qualche modo obbligati a fare delle scelte che non sono proprio bellissime, ancora una volta, anche per colpa dei politici, di quegli eletti qui, e ci metto anche i nostri, perché noi abbiamo due eletti qui in regione di termoli che vivono a termoli, compresi anche gli altri, perché non è che ci metto solo i miei, purtroppo non si stanno muovendo nel giusto modo, e questo mi dispiace. In un post serale, dopo le parole della stessa conferenza stampa che abbiamo fatto cenno, il sindaco Roberti parla di solidi ignoti che non riconoscono le macerie che hanno provocato, questo è un riferimento anche al passaggio sulla sentenza del Consiglio di Stato che proroga di solo due anni le concessioni balneate. Allora, io vorrei ricordare al sindaco Roberti che a parte che negli ultimi, dal 2019 al 2022, io sono tornato da Parma alcuni giorni fa e ho visto una città assolutamente degradata, una città sporca, una città abbandonata, chi viene da fuori questo lo nota, per i momenti in cui ci sono stato prima e adesso vivo. Ricordo al sindaco Roberti che al governo attuale c'è anche la Lega Forza Italia, e forse lui è un esponente di Forza Italia, fino a prova contraria, invece di prendersela col PD e col Movimento 5 Stelle, alzasse un attimo il sederino, andasse lui a Roma a parlare con i suoi ministri e vediamo cosa gli rispondono, perché la questione Bolkestein è una questione vecchissima, che si porta avanti da decenni, quindi non è che oggi è colpa di questi due partiti che stanno lì a sorridere, a fare gli applausi, noi non siamo assolutamente contenti di dire ai nostri cittadini balneatori che questa è la situazione, anzi mi dispiace tantissimo, ma lui non può scaricare, perché sono due anni che scarica tutto quello che succede sugli altri e la sua consigliatura, il suo essere sindaco a che cosa serve? L'abbiamo eletto, è stato eletto per dire che gli altri hanno sbagliato? Cosa sta facendo per Termoli? Me lo deve dire una cosa, una sola cosa in due anni e mezzo, perché secondo me in due anni e mezzo non ha fatto assolutamente nulla, passerelle, passerelle a destra e sinistra, questo ha fatto, vabbè, Toma che è amico suo e se lì c'è, è anche per merito di Toma, fa le stesse cose, per cui possono andare tranquillamente a braccetta, non me ne voglia Francesco, ma certe cose, prima di dirlo, oppure la conferenza che farà oggi pomeriggio alle 17.30 per sparlare di noi, deve cominciare a parlare di quello che vuole fare per la città, perché non c'è un disegno, non c'è niente, io non vedo niente per questa città, poi si lamenta che succedono le cose, per la sanità cosa ha fatto? Lui vive a Termoli, ha i figli che vivono qui, la moglie, la famiglia, gli amici, i cittadini, cosa sta facendo per la sanità? Oltre a dire abbiamo fatto ricorso personalmente perché non vogliamo spendere i soldi dei cittadini, ma chi te l'ha chiesto di non spendere i soldi? Ma reagisci con l'amministrazione, fai ricorso sotto legge dell'amministrazione, nessuno ti dirà perché l'hai fatto, si spendono tanti soldi, vogliamo fare l'elenco dei soldi che spendiamo? Spendiamo centinaia di migliaia di euro di debiti fuori bilancio per pagare le assicurazioni sulle persone, le buchede sulle strade, adesso per 2.000 euro ci sorprendiamo? Per favore, cominciassi a fare il sindaco che è arrivato il momento. Ci abbiamo a conclusione di questa intervista, di questa chiacchierata con Nick Di Michele, come hai vissuto questi due anni lontano da Termoli che hanno tra l'altro caratterizzato la vita di noi tutti a causa della pandemia? Beh, io per il lavoro che faccio sono comandante di un istituto di pena Parma che è davvero complicatissimo, voglio solo dare un numero, ci sono 700 detenuti, per cui non ho avuto tempo, lavoravo 12-13 ore al giorno, per cui diciamo che ero davvero impegnato per cercare di non fare entrare il virus all'interno dell'istituto perché sarebbe stata una tragedia, perché loro non si possono autodeterminare e dire vado a farmi curare lì piuttosto che da un'altra parte, quindi comunque dovevano rimanere lì dentro, poi c'è stata tutta quella polemica sui 41 bis che venivano scarcerati, quindi questa cosa non ve la racconto perché la conoscete benissimo, però quando tornavo e avevo la possibilità di tornare ho visto che Termoli comunque lentamente al di là della questione Covid si stava spegnendo e oggi, è oggi che è un mese di novembre, mi rendo conto che mi dispiace dirlo perché ci tengo tanto a questa città, è una città che mi ha accolto, sto qui da 25 anni, mi dispiace perché ci tengo tanto, ci tengo molto i cittadini, ma vedo che questa amministrazione al di là delle passerelle non sta facendo assolutamente niente, questa non è una critica ma vuole essere uno sprone per cominciare a fare qualcosa di positivo, lo dico al sindaco, lo dico agli amministratori che sono anche amici miei con i quali mi confronto tutti i giorni, ma qui oltre a fare l'ordinario di straordinario per la città, di qualcosa di bello, qualcosa che veramente la faccia decollare, non c'è niente, voglio dire quella scritta che hanno messo lì, hanno speso decine di migliaia di euro, la perla dell'Adriatico, ma quale perla dell'Adriatico? Per diventare perla dell'Adriatico te lo devono dire gli altri, non te lo devi dire da solo, lo devono dire i cittadini che vengono a soggiornare qui che questa è diventata la perla dell'Adriatico e oggi oltre al paese vecchio che è una cosa meravigliosa, mi dispiace, basta girarsi intorno e si capisce che non è assolutamente quello che loro pensano che sia. In conclusione un messaggio da parte tua alla cittadinanza termolesi? Io ripeto, io amo molto questa città perché mi ha accolto come dicevo prima, amo i cittadini termolesi, ma anche basso mulisani, sono di Ururi, quindi non è che vengo da un attare regione. Ripeto, io vorrei che ci fosse un moto d'orgoglio da parte dei termolesi affinché comincino in qualche modo a dire agli amministratori che la luna di miele è finita, è durata due anni e mezzo, al di là della questione pandemica e bisogna cominciare a pensare non ai prossimi due anni e mezzo, non a voler fare il Presidente della regione, non a voler scandidarsi alla regione piuttosto che al Parlamento e quindi già è iniziata la campagna elettorale da parte di qualcuno, bisogna cominciare a pensare al motivo per cui si sono stati eletti, cioè il benessere di questa città. E questo è l'auspicio che io faccio a me stesso ma soprattutto a chi governa, perché al di là delle amicizie, al di là del fatto che uno possa in qualche modo essere d'accordo su certe cose, scaricare sugli altri non serve a niente, per cui l'augurio è che siano proprio i cittadini stessi termolesi a dire datevi una mossa perché siamo in netto ritardo. Una democrazia delegata al basso, non dal basso. Sempre dal basso e al basso perché questo è l'unico modo per governare una città, è l'unico modo, i cittadini devono dire al sindaco comincia a muoverti perché stiamo in ritardo, è finita, non c'è più tempo, due anni e mezzo sono passati, non hai più tempo per dire devo guardare, devo controllare i conti, no, devi fare, non so come ma devi fare, perché tu sei il sindaco, non sono io il sindaco. Se volessi indicare un progetto, una idea, un programma puntuale per rilanciare termoli. Allora, rilanciare termoli significa puntare tutto, tutto, su uno sviluppo turistico che sia uno sviluppo turistico sostenibile, che ci leghi non solo al Molise ma ci leghi a tutte le altre regioni e noi abbiamo le potenzialità per essere veramente una città turistica di eccellenza. Abbiamo il porto che sta lì e non si capisce qual è la sua funzione, abbiamo l'autostrada e la gente passa di qui, non sa neanche qual è la regione che sta attraversando, abbiamo la ferrovia e ci passano anche treni veloci ma la gente non sa neanche cosa è questa città. Non c'è un'idea progettuale, neanche una pubblicità. Uno arriva, termoli, non sa neanche cos'è, dove sta, qual è la regione in cui insiste questa città. Non c'è niente, quindi io direi per concludere che bisogna davvero non a chiacchiere ma a fatti puntare su questo, davvero sul turismo. Naturalmente il turismo va a braccetto con quelle che sono tutte le altre risorse, non dico che l'industria deve essere abbandonata o l'agricoltura deve essere abbandonata, ma abbiamo questo, sfruttiamolo. Grazie per la tua attenzione. Grazie a te.